Musica 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 che ha una marea di sogni, di progetti, di speranze, troppi, troppi sogni, troppi progetti, troppi speranze, però questo compleanno mi ha fatto da vedere qualcosa che non avevo mai capito in quarant'anni, mi sono fondamentalmente innamorata di donne, ci sono donne meravigliose e ho avuto modo di conoscerne alcune straordinarie. L'ha presa questa serata, che ora si arrabbierà, si chiama Carmela, è una mia nuova amica e mi piace dire a vita, ma l'ama in tutela. Ha combattuto fortissimo ciò che comanda i gatti, e la quale mi prendo sempre più bella. E poi c'è Francesca, c'è Quanzia, c'è mia cagliata Francesca e mia suocina Edi, ci sono donne veramente fantastiche, quindi io sono tuttanto un pezzettino delle donne che siete, quindi grazie di essere con loro. Siccome saremo molto priate, il colpevole è questo signore qua e il canale del Giglio, che siamo veramente strafiniti di vedere noi. Grazie. Grazie per l'invito, soltanto un saluto, ovviamente poi saremo il meglio di noi durante la degustazione. Soltanto due parole sul Casale del Giglio, che è un attento anche da sempre, ovviamente ha creduto nel Lazio, creduto in Roma, creduto nel territorio, perché per anni il vino del Lazio era un vino considerato di serie B. Attraverso un progetto importante di sperimentazione, è riprodotto nel Lazio di digne nuovi come l'Oscitario, che è riprodotto di Pettimansenghe e di Pionine, che hanno ovviamente dimostrato che anche nel Lazio ci può fare qualità. Il più grande motivo di orgoglio, la più grande soddisfazione è stata attraverso questo progetto sperimentale, fare un vino di qualità che ha ricaduto la fiducia restauratore e l'Oscitario di poter proporre in una carta di vita il nostro territorio fino al Lazio, perché per anni si saltava dalla Toscana alla Campania, verra scorando ovviamente il fatto che il Lazio avesse una tradizione millenaria. e quindi questo è per noi un grande motivo di soddisfazione e però, come dicevo prima, è meglio ovviamente lo votare in un'operante della fiduciazione dove vi aspettiamo farlo così. Grazie ancora e buon cosiddetto. Ciao, ciao, un quarto di ora. E adesso via, mangiate, divertite, vi grazie. 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti.